E' bello a tutti ragazzi, sono Greg e oggi siamo in un nuovissimo video su questo canale Oggi sono qui appunto per parlarvi di cosa farò su questo canale Sarò con un mio carissimo amico Macfix, che vi lascio il nome qui sotto in descrizione Su questo canale ci saranno serie come GTA 5, tutta la storia e l'online in compagna sua Rice, da solo Poi ci sarà di Evan Wheaton, da solo e sia con lui, una nuova serie appunto dall'inizio Poi ci saranno match su WWE 2K4Dinner con Macfix, su Royal Rumble Ci sarà l'online, poi ci saranno anche tipo la Royal Rumble, ci sarà l'Aline Selle e vari incontri Ci saranno inoltre anche delle challenge, che queste challenge saranno beccali tutti E poi la... come si chiama... la 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 la... Vuoto di memoria Ci sarà anche la... rischia il gusto challenge La... e niente E poi ce ne saranno altri Ci sarà un vlog ogni sabato per appunto vedere come è andata la settimana Ci saranno fuck you time con Macfix da solo E magari ci sarà anche una challenge con mia sorella, che adesso è di là Comunque ci sarà magari una challenge anche con lei E... ci saranno appunto degli speciali per le varie occasioni Per Halloween Natale, così Però ci saranno anche per un tot di iscritti che appunto vi farò delle... delle challenge Sempre con Macfix o da solo o con mia sorella, adesso non lo so Comunque, questo video è finito Spolliciate, condividete su Facebook, su Instagram, ovunque volete E commentate Da Greg è tutto